Galdare è un paesino di circa 25.000 abitanti situato a nord di Las Palmas de Gran Canaria, raggiungibile attraverso l'autostrada GC2 in poco meno di 30 minuti. Qui si trova uno dei siti archeologici più rappresentativi delle isole canarie, la Queva Pintada, che espone un prezioso esempio di arte realizzata dalle antiche canarie. Nel comune di Galdar ci sono diverse spiagge, tra cui Playa de Sardina, bandiera blu dal 2018. Il clima di Galdare è caldo, arido e secco. Galdare ha quasi 2400 ettari della sua superficie, inclusi nella rete delle aree naturali protette delle isole canarie. Dopo la crisi causata dalla guerra civile, il decollo economico derivato dalla monocoltura bananiera diede una svolta alla fisionomia della città, accelerata negli ultimi 30 anni con lo sviluppo produttivo e commerciale. La crescente domanda di turismo culturale e naturalistico nel comune ha dato luogo negli ultimi anni all'incremento di numerose case rurali e appartamenti. Cosa vedere a Galdar? Tra le principali attrazioni c'è la Queva Pintada, il più importante punto di riferimento di arte rupestre aborigena delle Canarie. Altro luogo da non perdere, la parrocchia di Santiago, forse il luogo più emblematico e bello di Galdar. Anche il mercato La Recova dei Galdar, dove potrai trovare prodotti locali, vale la pena essere visitato, per la sua particolarità, la Casa Museo di Antonio Padron. Pittore, scrittore e scultore. Qui troverai parte delle sue opere. E potrai visitare la sua casa, molto bella con un curatissimo patio interno. Da non mancare, una visita al bellissimo Teatro Consistorial, uno dei migliori teatri storici dell'intero arcipelago. Infine, a dieci minuti di macchina abbiamo le piscine naturali di Elagugliero. Obbligatorio fare un bagno in questa meraviglia naturale. Galdar, inoltre, ti offre una vasta scelta gastronomica di qualità. E gode di un'ottima atmosfera nelle sue strade pedonali. Leggi il post completo su Galdar, il link lo trovi in descrizione. Non sei ancora iscritto al mio blog? Iscriviti adesso per accedere a tutti i contenuti. Nessun impegno. È gratis.